medici di famiglia accordo per colmare le carenze d'organico promessa mantenuta riapre il valico della contessa una falla nella sicurezza bluetooth la scoperta di un ricercatore pesarese a pesaro si gira il film mister hope la megabox vallefoglia sbarca su rossini tv con gli occhi della tigre buonasera a tutti voi pubblico di rossini tv ritrovati a rossini news telegiornale delle canale 80 che in questa edizione di martedì 5 dicembre parliamo di una giornata contrassegnata in tutta italia dallo sciopero di medici e infermieri per tagli alle pensioni e carenze d'organico proprio quest'ultimo argomento è stato oggetto di un accordo che la regione marchia ha completato in favore dei medici di medicina generale nel 5 dicembre giornata di sciopero nazionale di medici infermieri e dirigenti sanitari che ha raggiunto picchi di astensione dal lavoro dell 85 per cento al netto dei salvaguardati servizi d'emergenza la regione marche ha presentato un importante stanziamento di risorse in favore della categoria dei medici di medicina generale un accordo da 4 milioni di euro si tratta di un accordo regionale che è un corollario dell'accordo nazionale e la necessità era quella di rinforzare l'assistenza sanitaria territoriale a seguito della nota carenza di medici di medicina generale si aiutano con degli incentivi medici a potenziare il servizio di segreteria la loro permanenza la loro aggregazione e quindi è un percorso importante virtuoso ringrazio i medici di medicina generale i pediatri i loro sindacati la finigi lo snami e soprattutto i dirigenti della regione che sono giunti a questo importante accordo che si aggiunge agli impegni della regione agli investimenti sugli ambulatori funzionali territoriali e i punti salute e quindi questo è un primo tassello di un percorso che vogliamo corroborare con loro soddisfatta la federazione dei medici di medicina generale per un accordo che punta ad un'inversione di tendenza rispetto all'impoverimento d'organico in cui versa la categoria è successo nel giro di quattro anni sostanzialmente i medici sono passati nella regione marchi medici famiglia dal numero 1250 a poco più di 900 quindi abbiamo perso circa 300 350 unità e questo ha comportato un una serie di problemi come la disponibilità la scarsa disponibilità dei medici soprattutto nelle aree più interne della regione ma anche una media assistiti per medico come dicevamo prima molto più consistente siamo passati da una media di 1100-1150 per medico a una media di oltre 1350-1400 quindi significa che il lavoro per i medici è diventato molto più oneroso e molto più difficile e questo ha comportato la necessità di dover riadeguare gli strumenti che avevamo a disposizione quindi abbiamo chiesto e su questo c'è stata grande sensibilità da parte della politica regionale dell'assessore del presidente di tutti i collaboratori del servizio salute per venire incontro a quella che era una richiesta che andava a cercare di migliorare gli standard erogativi della medicina di famiglia. promessa mantenuta dopo sette mesi di lavoro H24 il valico della contessa è pronto a riaprirsi alla viabilità fra Marche e Umbria in particolare fra i comuni di Cantiano e di Gubbio l'annuncio è arrivato ieri dal tavolo di Confcommercio Marche Nord. promessa mantenuta la strada della contessa che collega Marche e Umbria attraverso i comuni di Cantiano e Gubbio riaprirà prima delle festività natalizie l'annuncio è arrivato ieri pomeriggio dalla sede di Confcommercio Marche Nord negli stessi locali in cui il 28 febbraio scorso l'associazione di categoria aveva accolto dirigenti ANAS e l'assessore regionale Baldelli per certificare un patto di lavori H24 che dimezzassero i tempi di realizzazione dell'opera dimezzando a sua volta i disagi di isolamento e viabilità delle comunità coinvolte. Lavori di ripristino strutturale del viadotto sulla statale 452 tra Gubbio e il confine della provincia di Pesaro erano partiti il 17 aprile e dopo le prove di carico previste il 13 dicembre l'arteria sarà riaperta presumibilmente il 18 dicembre. Io voglio ringraziare chi mi ha segnalato per primo il problema che è stata la Confcommercio Marche Nord perché non avevamo avuto segnalazioni della gravità del problema che doveva essere affrontato perché purtroppo in passato la regione Marche aveva declassato l'arteria stradale che oggi con Marche 20 e 32 il nuovo piano delle infrastrutture della regione Marche torna a far parte dell'ossatura fondamentale strategica della viabilità della nostra regione in questo tracciato molto importante che unisce la provincia di Pesaro Urbino in modo particolare Fano con Cantiano e Gubbio una direttrice importante della provincia di Pesaro Urbino verso Roma che serve un comparto industriale turistico molto importante. Il mio ringraziamento va anche a Danas che ha garantito il rispetto dei tempi richiesti dalla regione Marche. Ricordavate che i lavori per la rigenerazione del viadotto della galleria che tutti conosciamo come Contessa era stato individuato da realizzare in un arco di tempo superiore ai 12 mesi, tra i 12, 16, 18 mesi. Quei tempi sono stati dimezzati, tra qualche giorno verrà riaperta la viabilità principale e nel frattempo anche Anasmar che ha compiuto una serie di lavori nel tratto marchigiano di questa fondamentale arteria stradale in maniera tale da restituire in sicurezza quel tratto di strada agli utenti marchigiani. Abbiamo chiuso la SS 452 a partire dalla metà del mese di aprile, i lavori hanno proceduto il secondo cronoprogramma e prima di Natale riapriamo la strada con il viadotto della Contessa completamente rinnovato unitamente ai lavori della galleria per un importo complessivo di investimento di circa 10 milioni di euro. Abbiamo demolito e ricostruito il viadotto della Contessa, quindi con la costruzione di un nuovo impalcato metallico in sostituzione del vecchio impalcato in calcestruzzo, effettuato lavori di manutenzione importanti sulla galleria e sulle infrastrutture nell'intorno del viadotto che sono la tratta più critica della strada statale. Ovviamente ringrazio l'ANAS, ringrazio l'assessore Baldelli, tutti coloro che sono intervenuti per accelerare l'esecuzione dei lavori. Quest'estate noi abbiamo avuto un danno enorme dal punto di vista turistico, soprattutto nella fascia Fano-Torrette-Marotta che era un po' considerata la spiaggia degli Umbri. Tutte le attività economiche lungo il percorso, lungo la vecchia Flaminia, ristoranti, attività commerciali hanno subito danni notevoli e per questo oggi siamo felici di poter dire che il risultato auspicato è finalmente raggiunto. Noi come Confcommercio Marche Nord, insieme alla Confcommercio di Gubbio, faremo però un'iniziativa per agevolare le imprese danneggiate appunto da questa chiusura, una iniziativa che avrà tre filoni, uno gastronomico, uno legato all'archeologia perché siamo sia a Gubbio che è insomma la nostro territorio lungo la Flaminia, che Federico da Montefeltro. Federico da Montefeltro è nato a Gubbio, Duca di Urbino, Gubbio è la seconda città del Ducato per cui faremo un'iniziativa promozionale per ricordare agli Umbri che devono ripassare dalla Contessa intanto e quindi è un modo per rivitalizzare dal punto di vista economico le imprese che appunto hanno atteso con ansia la riapertura. L'iniziativa è già pronta, programmata, a febbraio partirà. Quattro mesi iniziativa promozionale, ovviamente saranno coinvolte le due Camere di Commercio e le due Regioni. Ed ora parliamo di scienza e tecnologia perché c'è anche un ricercatore pesarese nel gruppo di lavoro che ha portato alla scoperta di una importante falla di sicurezza nei dispositivi Bluetooth. E' stata scoperta una falla di sicurezza nei dispositivi Bluetooth che rende vulnerabile dati sensibili minacciando la privacy degli utenti di smartphone o tablet. A scoprirla è stato Daniele Antonioli, ricercatore scientifico pesarese, attualmente professore associato di sicurezza informatica ad Eurcom, centro di ricerca che si trova in Francia nella città di Sofia Antipoli. La falla è stata etichettata come BLEF, acronimo di Bluetooth Forward and Future Secrecy ed è una scoperta con intuibili ripercussioni tecnologiche a livello internazionale come presentato nei giorni scorsi da Antonioli a Copenaghen. Con questa scoperta abbiamo isolato dei nuovi problemi di sicurezza che permettono di intercettare il traffico scambiato dai nostri dispositivi Bluetooth e anche modificarlo. E ovviamente questo traffico può contenere dati sensibili, non so come i nostri numeri di una carta di credito, i nostri numeri di telefono e quindi è un rischio di sicurezza molto importante. Anche perché essendo una falla che colpisce lo standard Bluetooth, il documento che descrive come funzionano queste comunicazioni, questa falla poi è presente in tutti i dispositivi indipendentemente da chi ha creato il dispositivo, quindi parliamo dei nostri iPhone, telefonini Android, i Mac, i computer Windows, quindi indipendentemente da chi ha sviluppato il dispositivo l'attaccante può compromettere questo dispositivo. Scoprire la falla ha permesso anche di impostare un lavoro su nuovi anticorpi di sicurezza da applicare ai dispositivi. Abbiamo sviluppato anche poi dei meccanismi di sicurezza migliorati per potersi proteggere da questi nuovi attacchi e questi meccanismi di sicurezza li abbiamo proposti al consorzio che gestisce lo standard Bluetooth, che si chiama Bluetooth SIG, che in parole povere è un consorzio di aziende che gestiscono la tecnologia, tra cui troviamo anche Google, Microsoft, Apple, Intel e noi abbiamo detto come risolvere i problemi e adesso stiamo aspettando di capire cosa hanno implementato i produttori dei dispositivi. Incidente stradale questa mattina ad Urbino sulla strada provinciale 423 Urbinate. Per cause da chiarire due vetture con due persone a bordo si sono scontrate e oltre a due ambulanze sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere feriti poi trasportati all'ospedale di Urbino. Vigili del fuoco intervenuti anche a Pesaro dove si è registrato un pericoloso distaccamento di lastre di piombo dal tetto della cappella di Sant'Ubaldo alle spalle del Palazzo del Comune. Un intervento durato circa 4 ore. Altro sciopero in arrivo per quello che riguarda i trasporti. Lo annuncia Adrebus per il 15 dicembre comunicando che i servizi potrebbero non essere garantiti dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le biglietterie e gli uffici informazione potrebbero scioperare per l'intera giornata. E continua il countdown di questo mese di dicembre che avvicina a Pesaro capitale della cultura 2024. Giornata importante quella di domani quando il progetto La Natura della Cultura sarà presentato al Maxi di Roma alla presenza tra gli altri del Ministro della Cultura San Giuliano, delle direttrici di QN e Rai Radio 2 Agnese Pini e Simona Sala, oltre che naturalmente di sindaco e vicesindaco Ricce Vimini e del governatore delle Marche Acquaroli. Saranno presenti a Roma anche le nostre telecamere per tutti gli approfondimenti che vi mostreremo su Rossini News e in uno speciale dedicato. E domani mercoledì 6 dicembre alle ore 17 al Cinema Solaris di Pesaro verrà proiettato il film Le Belle Estati, opera cinematografica di Mauro Santini realizzata dagli studenti del Liceo Artistico Mengaroni in dirizzo audiovisivo e multimedia. Il progetto didattico prende spunto dall'opera di Cesare Pavese e in particolare dai romanzi La Bella Estate e Il Diavolo sulle Colline declinati e rielaborati in opera filmica. Una seconda proiezione sarà effettuata anche alle ore 18 e 30. E gli studenti del Mengaroni sono anche coinvolti in un altro progetto cinematografico che è stato presentato oggi nella Sala Rossa del Comune di Pesaro. Ci sono anche set cinematografici in via d'allestimento nelle 2024 Anno di Pesaro Capitale della Cultura. Quelli che verranno apparecchiati in location come Villa Severi o della Chiara Workspaces per la realizzazione di Mr. Hope, cortometraggio pelota che potrebbe anche germogliare in una miniserie o in un lungometraggio. Ad essere presentato oggi in comune è un film interamente made in Pesaro dai set alla casa di produzione. La LG Studios è supportata dall'imprenditore Mirko Bannini fino al regista 23enne Tommaso D'Andrea. Il tutto con il coinvolgimento degli studenti del liceo artistico Mengaroni. Posso dire che è un genere distopico di una Pesaro vista di qualche anno nel futuro quindi pensiamo in un 2039-2040 e diciamo che i toni saranno abbastanza cupi. Gli argomenti trattati sono la libertà del giornalismo e dell'informazione. Il cinema è sempre un bel modo di raccontare la città, di raccontare il territorio. Tra l'altro questa produzione di LG Studios verrà realizzata completamente a Pesaro con attori scelti ovviamente in tutta Italia. C'è stato un casting già con tantissime adesioni ma racconterà un futuro distopico ma abbiantato nella nostra città. Abbiamo cercato di avere più curriculum possibili sono arrivate circa 240 mail candidature di attori più o meno da tutta Italia e abbiamo fatto un grosso lavoro di selezione più selezioni cercando di selezionare prima quello che poteva essere più interessante dal punto di vista estetico dei personaggi che ci interessavano e poi abbiamo richiesto dei self tape su ruolo, su parte per poter verificare chi poteva essere più meritevole o più indicato per svolgere un ruolo. Poi abbiamo fatto dei casting in sede che stiamo ancora facendo gli ultimi casting. Nel progetto c'è anche il liceo artistico Mengaroni di Pesaro che i ragazzi che abbiamo coinvolto sono una quinta e hanno un coinvolgimento sulla preproduzione ovvero sulla preparazione degli storyboard che ovviamente faranno insieme a noi perché poi sullo storyboard stiamo preparando la regia e di conseguenza ci sarà tutto lo sviluppo di tutto lo short e anche una eventuale partecipazione dei ragazzi più grandi ovviamente che si hanno compiuto i 18 anni faranno dei casting interni per le eventuali comparse. E continuiamo ad andare alla scoperta dei tanti appuntamenti pre-natalizi nel nostro territorio lo facciamo occupandoci di Pergola e in particolare della sua festa Cioccovisciola. Tre giorni immersi nell'atmosfera natalizia dove i protagonisti principali saranno ovviamente cioccolato e visciolato ma non solo anche tanti altri prodotti tipici insieme a musica itinerante animazioni per bambini e non luoghi aperti da visitare a cura dei volontari della Proloco e anche appuntamenti sportivi a cura di Corri Pergola e di Bike Therapy e il Ciocco Raduno un raduno per tutti gli amanti che viaggiano in camper quindi sicuramente tre giorni pieni di attività, degustazioni possibilità di assaggiare e acquistare i nostri prodotti tipici di divertirsi e trovare tante idee regalo per il Natale. Nelle giornate di venerdì 8 e domenica 10 sarà a disposizione anche una navetta gratuita che farà la spola tra Pergola e Frontone così che chi vuole avrà la possibilità di muoversi tra la festa di Pergola l'evento di Pergola e il mercatino di Natale al castello di Frontone. Pergola ormai è diventata oltre che patria del tartufo bianco pregiato oltre che realtà importante a livello internazionale per i bronzi dorati da cartocetto è una realtà molto importante per il visciolato diverse aziende che producono il vino di visciole e poi nella nostra provincia ci sono anche maestri cioccolatieri che hanno saputo abbinare il cioccolato con la visciola quindi due elementi molto graditi dai consumatori dal pubblico che ovviamente nelle giornate 8, 9 e 10 di dicembre riempiranno le strade e le vie della città di Pergola con cui noi siamo legati in maniera particolare per la gestione del museo di bronzi dorati per la partecipazione fin dall'inizio del comune di Pergola al progetto itinerario della bellezza. E da domani un nuovo programma sportivo è pronto a partire su Rossini TV si chiama Gli occhi della Tigre e ogni mercoledì vi porterà a conoscere le storie delle giocatrici della Megabox Vallefoglia La Megabox Vallefoglia sbarca su Rossini TV ogni mercoledì alle 21.20 il canale 80 vi mostrerà Gli occhi della Tigre titolo del nuovo format sportivo di Rossini TV che porterà alla scoperta di vita e passioni, non solo sportive delle giocatrici della Megabox squadra di pallavolo femminile impegnata per il terzo anno consecutivo nella massima serie nazionale Dopo due anni a Urbino la Megabox quest'anno ha preso residenza a Pesolo giocando le sue partite casalinghe al padiglione di Di Campanara non a caso ribattezzato Palla Megabox Gli occhi della Tigre comincia dunque il 6 di dicembre in un momento particolarmente sorridente per le Tigri reduce da due vittorie consecutive e dal primo successo a Pesolo arrivato domenica al cospetto del Bisonte Firenze Ora non resta che scoprire i primi occhi della Tigre quelli della schiacciatrice Beatrice Gardini mercoledì 6 dicembre alle 21.20 su Rossini TV E dunque non perdetevi domani Gli occhi della Tigre nuovo programma sportivo di Rossini TV e un altro nuovo programma parte subito dopo il nostro telegiornale alle 20.10 ve l'abbiamo illustrato anche nelle precedenti edizioni del nostro TG si chiama Sinfonia di Maestri il racconto dell'orchestra sinfonica Rossini appuntamento come detto subito dopo il telegiornale alle 20.10 con prima replica alle 22.30 ospiti di questa prima puntata del format condotto dalla nostra direttrice Emanuela Rossi saranno il primo corno dell'orchestra sinfonica Enrico Barchetta e la prima viola nonché direttore per la formazione Noris Borgoggelli A seguire alle 21.20 come ogni martedì amministrando terza puntata di questo format d'avvicinamento alle elezioni amministrative 2024 ospiti in studio con il nostro Luigi Benelli saranno i consiglieri regionali Andrea Biancani del Partito Democratico e Giacomo Rossi dei Civici Marche come detto appuntamento alle 21.20 come ogni martedì e poi tante repliche che potete vedere in grafica e poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 con Buongiorno Rossini la segna stampa del mercoledì che sarà condotta dalla nostra Emanuela Rossi altra diretta di altro genere genere sportivo quello di insieme a Canestro giovedì alle 21.20 l'appuntamento con il foco sulla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro condotto da Elisabetta Ferri insieme a Canestro che in questa puntata avrà come ospiti l'ala della Carpegna Prosciutto Basket Trevon Bluyet e il giornalista Michele Romano oltre come sempre alla possibilità di interazione in diretta di voi telespettatori al numero Whatsapp che vedete in grafica 370-366-7210 Questi dunque gli appuntamenti di questa sera e anche delle prossime serate finisce qui invece Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi